La settimana deve ancora iniziare perché comunque il primo allenamento è stato stamattina, è stato un allenamento come più o meno tutti i martedì mattina, ora abbiamo tre giorni di allenamenti per preparare questa partita e per preparare questa Coppa Italia. Ovviamente penso che i carichi di lavoro non siano elevati, penso che bisognerà lavorare più che altro sui dettagli perché appunto lo sforzo che andremo a fare in questa settimana sarà molto duro. Io so qual è il mio ruolo in questo gruppo, nel senso che io sono qui per migliorare, sono qui per cercare di dare una mano a una squadra tutti i giorni in allenamento perché l'allenamento comunque è la forza di questa squadra, allenarsi sempre con grande intensità, nel curare i dettagli come facciamo noi è la nostra forza. Quindi io sono qui per migliorare, per aiutare la squadra in allenamento, quando c'è bisogno in partita devo farmi trovare pronto. Certo, la Coppa Italia è una competizione totalmente differente insomma dalle altre, sia dall'eroleva e ovviamente dal campionato perché comunque si gioca tutto appunto in tre giorni e può succedere di tutto. squadre magari ovviamente tutti dicono che noi siamo la squadra favorita però in queste partite sono partite secche in cui tutto può succedere, si parte tutti da zero, tutti dallo stesso punto quindi insomma vincere non è facile per nessuno e quindi non lo sarà neanche per noi.